All'inizio della partita probabilmente determinante. Sì, due parati importanti, questa è stata la mia prima partita e devo essere sincero ho sentito anche un po' l'importanza dell'esordio in questa che è la mia città e quindi è andata bene così per come si era messa la partita, anche il pareggio secondo me è stato un buon risultato. Avete subito un'altra partita mercoledì e quasi certamente sarei chiamato di nuovo tra i pali, che risultato ti aspetti di ottenere? Se doveste vincere col Bassano la classifica si metterebbe decisamente meglio. Sì, io sicuramente darò il massimo perché non posso fare altro, questa è la mia città. Mercoledì c'è subito un'altra partita difficile, è un campionato molto equilibrato, le squadre hanno tutti degli ottimi organici, sarà una battaglia ogni partita. Grazie. Grazie. Grazie.